A Cileale un territorio mortificato dalle discariche come non mai l'amministrazione annuncia nuove iniziative. Santa Venera, dopo i discutibili tagli all'aspetto folcloristico, la gestione della festa continua a far discutere. Calcio, la Cileale costruisce la spina dorsale della Rosa e lancia la campagna abbonamenti. Ben trovati, buon inizio di settimana con il nostro Tg Reporter. Tra gli altri argomenti riflettori su Capomulini si discutono le varie problematiche della frazione accese, conferenze di servizi questa mattina tra i comuni di A Cileale e A Cicastello. A A Cicastello invece si lavora alla redazione del piano regolatore generale. Questa mattina il sindaco ha incontrato i professionisti incaricati di redigere l'importante strumento urbanistico. E poi parleremo oltre che di calcio anche di scherma per quanto riguarda lo sport. Solo bronzo per il fiorettista accese Daniele Garozzo, ieri ai mondiali di Lipsia. Volevo loro, commenta, deluso l'azzurro accese. Questo è altro all'interno del nostro giornale. In primo piano dicevamo l'emergenza rifiuti, un'emergenza ormai continua, quotidiana. Un territorio, quello accese, mortificato dalle tante discariche ma anche dai disservizi che il servizio, scusate il giro di parole, continua a regalare agli accesi. Vediamo le novità annunciate questa mattina. Abbandono di rifiuti dopo la nota della Tecra, ditta che si occupa del servizio di raccolta rifiuti ad Acireale, che ha chiamato in causa l'amministrazione accusata di mancato controllo ed elevazione di multe e trasgressori, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e l'assessore alle politiche ambientali Francesco Fichera corrono ai ripari. Questa mattina, infatti, in una conferenza stampa che si è svolta al Palazzo di Città, sono state illustrate alla stampa alcune novità per debellare gli atteggiamenti incivili, in parte causa della nascita di vere e proprie discariche a cielo aperto. Si tratta dell'acquisto di nuove telecamere per il controllo del territorio e dell'attivazione di un numero dati direttamente collegato al comando dei vigili urbani per segnalare in tempo reale e in forma assolutamente anonima gli atti di abbandono di rifiuti in città e nelle frazioni. Un appello, quello del comandante dei vigili urbani Antonino Molino, affinché tutta la città collabori in tal senso. Questo è stato fatto in conferenza stampa, è un appello ai cittadini, che sono tanti, che stanno facendo la differenziata in modo perfetto e che ci devono aiutare. Ci devono aiutare a colpire coloro i quali invece non lo fanno, anzi, al contrario, ritengono che sporcare questa città sia una cosa encomiabile. Non è così. Noi ci stiamo mettendo, stiamo agendo su più fronti. Da una parte sul fronte tecnologico, quindi con l'installazione di decine di telecamere, di videosorveglianza, in modo da verificare, accertare e sanzionare tutti i comportamenti di abbandono che tutti quanti vediamo per strada. Dall'altra parte, come dicevo, un appello a tutti i cittadini per bene. I cittadini, usando uno strumento che è Whatsapp, che sono i nuovi strumenti dei social, abbiamo attivato un numero che è soltanto un numero dati a cui possono essere inviati dei video, e il numero 391 704 2308, su cui tutti i cittadini potranno inviare i video che documentano l'abbandono da parte di terzi, da parte di altri, di questi soggetti incivili, l'abbandono appunto di rifiuti sulla pubblica via. Il filmato dovrà contenere le indicazioni di luogo, di data, di orario e documentare appunto l'abbandono. In questa maniera, il comando di polizia municipale di Cireale sarà nelle condizioni di poter verbalizzare questi soggetti. Allora, io ritengo che se tutti siamo insieme, cioè dire, noi pubblica amministrazione, e dall'altra parte i cittadini onesti, i cittadini per bene, i cittadini che vogliono questa città pulita, alla fine riusciremo ad averla pulita e a raggiungere il nostro obiettivo. Sono 8 mila invece gli evasori della tassa sui rifiuti. Da alcuni dati incrociati dall'amministrazione, ufficio tributi, infatti, questo pesante numero sarebbe solo la punta dell'iceberg. Un'altra ipotesi riferita dal sindaco Barbagallo sarebbe la possibilità di installare dei cassonetti a scheda magnetica in alcuni punti della città e di alcune frazioni accesi. E a proposito di frazioni, mancano all'appello solo Pennisi, Santa Maria Ammalati, Piano d'Api, per arrivare alla totale copertura del servizio di raccolta differenziata porta a porta, raggiungendo così più del 32% di differenziata. Nuovi strumenti, diciamo, più arricchiamo gli strumenti, quantomeno nel numero, ecco, e anche nel tipo ci saranno e ci sono già attive diverse telecamere, ma questo voglio dire ormai c'è da tempo, i risultati verranno pubblicati presto. Vogliamo mettere a disposizione comunque degli utenti anche un numero dedicato per le segnalazioni di abbandoni con i rilievi delle targhe e delle auto che eventualmente si fossero rese responsabili di questi abbandoni di cittadini, ecco, proprietari di queste auto che in sosta poi abbandonano i rifiuti. Quindi sarà pubblicato questo numero dove con note WhatsApp, con foto, grafie e i rilievi delle targhe che ci consentiranno di implementare i controlli sul territorio. Chiediamo sostanzialmente la collaborazione del cittadino, tante segnalazioni già ne riceviamo, vogliamo farle in maniera in forma pubblica e diffusa anche con questo strumento. Tecra sta facendo un lavoro sul territorio, occorre maggiore, come dicevo, puntualità nell'esecuzione dei servizi. Quando Tecra fa riferimento ai controlli probabilmente si riferisce a quelle zone in cui dopo aver ripulito dopo poche ore, dopo qualche giorno il fenomeno si è nuovamente manifestato. Quindi probabilmente in questi siti i controlli occorre intensificarli perché questi fenomeni non avvengono più. Però Tecra faccia il proprio lavoro, esegue i servizi regolarmente con puntualità, specie quelle di ritiro del porta a porta e lo spazzamento stradale e noi non abbiamo nessuna ragione di aprire alcuna contesa con Tecra che ha vinto un appalto e che è obbligata a eseguire i servizi all'appalto. Per quanto riguarda le persone i numeri sono elevati, abbiamo rilevato circa 8.000 posizioni di immobili che non sono associati a nessun identifico catastale ai fini dell'Atario, della Tarso, della vecchia Tarso. Per cui su questi numeri occorre fare un lavoro molto intenso. Già l'Ufficio Tributi ha un corposo elenco di posizioni che già da diverse settimane sta esaminando. Insomma entro settembre avremo numeri particolarmente elevati anche sull'evasione. Benvenga diciamo noi il numero dedicato per l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Forse occorrerebbe un altro numero per segnalare anche le disfunzioni che giornalmente si registrano nel campo dello svuotamento dei mastelli che non sempre vengono svuotati con regolarità. Questo succede un po' dappertutto, soprattutto nelle zone periferiche o nelle frazioni di Acireale. Ci piace pensare invece all'idea che si possa avviare con delle sperimentazioni il servizio che possa essere implementato con sistemi elettronici. Questo forse sarebbe una risoluzione ai tanti problemi, alle tante discariche che magari si formano sul territorio. Vedremo. Intanto sulla problematica rifiuti, questa sera alle 19 in via Fabio, ad Acireale, sede del Partito Democratico, verrà affrontata questa tematica, la presenza dell'assessore alle politiche ambientali. Domani invece, per restare in tema, al Palazzo Municipale di Santa Venerina si terrà un incontro sull'emergenza del conferimento dell'umido negli impianti di compostaggio. Ai cittadini chiediamo di fare la raccolta differenziata. Dice a proposito il Sindaco di Santa Venerina, Salvatore Greco, ma a nostra volta chiediamo alla Regione che i rifiuti differenziati dai cittadini possano essere adeguatamente conferiti. Adesso invece parliamo d'altro. Ieri giornata di mare per tanti, panico nelle spiagge ioniche, ancora gravi le condizioni di salute dei due uomini trasferiti d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo l'intervento dell'elisoccorso. Tragedia invece sfiorata a Santa Tecla. Vediamo. Attimi concitati ieri nelle spiagge della riviera Ionica. Panico a Fondachello, dove un uomo di 46 anni di pedara, intorno alle 10 del mattino, mentre si trovava in barca nel tratto di mare tra il lido Sirius e il lido Luna Rossa, ha accusato un malore. Sin da subito le sue condizioni sono apparse gravi. Non è bastato l'intervento degli operatori del 118, che, viste le delicate condizioni del bagnante, hanno preferito allertare l'elisoccorso che è atterrato nell'elipista di Sant'Anna. Ancora gravissime le condizioni di salute dell'uomo che si trova ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania in terapia intensiva e la cui prognosi resta ancora riservata. Dinamica simile anche a Giarre, dove un uomo di 47 anni è rischiato di annegare in piscina. Anche qui si è ricorso all'intervento dell'isoccorso dell'ospedale Cannizzaro, che ha trasferito l'uomo nel reparto di rianimazione. Anche per lui la prognosi resta riservata. Situazione ben diversa a Santa Tecla, nella CES, nella quale non sono mancati comunque momenti di tensione. Il pontile del porticciolo della frazione, che viene utilizzato per ormeggiare le barche, è stato infatti teatro di una sfiorata tragedia. Una barca si è sganciata dal gancio della gru che la stava riponendo nel suo ricovero ed è caduta in mare distruggendosi completamente. Fortunatamente il tutto è rimasto circoscritto, nessuna conseguenza per i bagnanti, che si sarebbero potuti trasformare nelle vere vittime dell'eventuale tragedia, qualora la barca si fosse sganciata un attimo prima, nei momenti di circonduzione che vengono solitamente attuati prima che le barche vengano sistemate nel porticciolo. Quella di ieri, insomma, è stata proprio una domenica da paura. E adesso invece parliamo della festa di Santa Venera. Come abbiamo detto, dopo i discutibili tagli all'aspetto folcloristico da parte dell'amministrazione, la gestione della festa continua purtroppo a far discutere. Vediamo. Anche la novità di quest'anno nei festeggiamenti in onore di Santa Venera si è svolta a metà. Infatti, dopo la suggestiva discesa del busto reliquiario della patrona di Acireale per l'antico sentiero delle Chiazzette, la risalita prevista ieri sera per il medesimo percorso non si è svolta perché, come c'è stato detto dal presidente Piro del Circolo Santa Venera, c'era la presenza ingombrante di alberi e rami lungo il percorso che ne impediva il rientro. Non c'erano, insomma, le possibilità, visto i rami sporgenti, per cui Santa Venera ha fatto rientro al suffragio attraverso un furgoncino. Ci chiediamo come sia possibile che nel programmare questa inedita processione attraverso le Chiazzette non si sia pensato ad effettuare prima un sopralluogo, facendo predisporre gli opportuni interventi così da eliminare gli handicap presentatisi ai portatori del busto reliquiario della Santa. Una gestione della festa barocca, insomma, da parte della Reale Cappella e dell'amministrazione comunale, ancora una volta alla stregua di una sagra paesana, dopo i discutibili tagli all'aspetto folcloristico della festa stessa. Tornando ai momenti della festa di sabato, dopo l'apertura della Cappella, il simulacro reliquiario di Santa Venera è stato condotto a spalla a lungo via Romeo e, passando dal quartiere suffragio, ha attraversato la statale per poi imboccare l'antica mulattiera che conduce a Santa Maria la Scala. A prendere in consegna la statua all'inizio delle Chiazzette sono stati i portatori di Santa Maria la Scala guidati dal parroco Francesco Mazzoli. All'arrivo nella frazione marinara, Santa Venera è stata accolta dalla comunità di Santa Maria la Scala e in piazza Molino è stata celebrata la messa, poi a seguire la processione per le vie della borgata marinara e l'ingresso nella chiesa parrocchiale, dove il prezioso simulacro è stato custodito tutta la notte. Ieri, come detto, l'annullamento della salita, il trasporto di Santa Venera con un mezzo motorizzato fino al suffragio, poi a spalla il rientro in cattedrale. Intanto continua il programma. Oggi alle 19.30, Santa Messa di conclusione del Triduo. Al termine, processione con le reliquie all'interno della chiesa e benedizione. Domani, secondo programma, alle 15 la Coriandolata, nel largo Giovanni XXIII con la realizzazione di una immagine di Santa Venera. E poi alle 20 l'inizio del giro popolare con il busto di Santa Venera posta sul fercolo di San Michele prestato per l'occasione a causa delle note vicende accadute in cattedrale che hanno impedito l'uscita dell'Argente Avara di Santa Venera. Dicevamo della nostra diretta televisiva di giorno 26, diretta che Etna Espresso Cianna l'ha voluto a proprie spese e comunque assicurare a quanti non possono essere presenti alla festa o preferiscono gustarsi le spettacolari immagini da casa. L'appuntamento è per le 20.30. Antonio Trovato, insieme ai suoi ospiti, commenterà l'uscita e l'inizio del giro d'onore fino alla benedizione da parte del Vescovo dal Palazzo Costa Grimaldi. Questo il giorno 26. Intanto il responsabile unico del Cerio Falegnami e Panettieri, insieme agli altri sette portatori, che sono Mario Pulvirenti, Sebi Argentino, Saretto Bella, Simone Trovato, Daniele Di Piazza, Cristian Principato e Giuseppe Fichiera, puntualizza che quest'anno solo grazie ai sacrifici anche economici si è riusciti a garantire la presenza del Cerio in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona. Desideriamo diffidare e richiamare al buonsenso quanti, si legge nella nota da mesi, soprattutto in questi giorni, si vantano di aver contribuito alla festa del Cerio o addirittura di esserne diretti responsabili, non avendo rispetto di chi veramente impegna anima e corpo, leggiamo testualmente, per far diventare tutto realizzabili. I ceri sono parte della nostra tradizione, commenta Saretto Bella, dono dei nostri avi, invitiamo tutti al buonsenso e alla collaborazione per accrescere in positivo questa festa. Da parte mia era doveroso rendere merito ai veri artefici e custodi del Cerio Falegnami e Panettieri, affidiamo le nostre preghiere alla nostra patrona Santa Venera. Adesso è tempo di fermarci, o meglio, abbiamo ancora un servizio, parliamo di Capomulini, questa mattina un sopralluogo congiunto da parte dei tecnici dei comuni di Acireale e Acicastello. Come preannunciato la scorsa settimana, si è tenuto stamattina il sopralluogo con i tecnici dei comuni di Acireale e Acicastello per le questioni della frazione di Capomulini sollevate dal consigliere Sabrina Renna e portate avanti in una conferenza dei servizi tra i due enti. Molti degli aspetti tecnici affrontati per la corretta fruibilità della via Garritta e per il triangolo di via Livorno, via degli Oleandri e la strada statale 114, il sopralluogo di oggi, afferma la consigliera Renna, è stato importante perché sul posto, insieme ad una rappresentanza di residenti, abbiamo affrontato le questioni tecniche poste la scorsa settimana in sede di istruttoria della conferenza dei servizi. Sono state affrontate una pluralità di questioni al baglio ora dei tecnici e del demanio che dovrà intervenire nel procedimento per gli atti di competenza. Sono contenti di aver dato un piccolo contributo per la risoluzione di un problema, come la fruizione della via Garritta strategica per la frazione e per la città intera. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimi minuti. Avete provato l'emozione della linea Prime Emozioni? Fatelo! Adesso ci sono gli sconti dal 30 al 70% su tutti i vestiti per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, abiti eleganti, ma non solo, anche giornalieri o casual. Prime Emozioni è la linea esclusiva di abiti da 0 a 14 anni. Vieni a trovarci! Siamo in corso Umberto 212 a Cireale. Oggi puoi risparmiare dal 30 al 70% su tutto l'assortimento. C'è tutto il sapore del mare, nei piatti preparati dal ristorante Belle Epoque, il piacere della tavola. Oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza, come la volete, tutti i gusti. Belle Epoque, eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere, ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo, parco giochi per bambini, parcheggio interno, per il resto basta provarlo. Belle Epoque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Sono Saverio Franceschini, broker di Remax Platinum. Oggi mi trovo a Scillichenti e ho il piacere di presentarvi queste fantastiche nuove costruzioni. A pochi passi dallo splendido mare di Stazzo, in posizione centrale e panoramicissima, il Residence Miramare propone in vendita villette e appartamenti in villa, dotati di ogni comfort e realizzati con le più moderne tecniche costruttive. Infissi a taglio termico di ultima generazione, riscaldamento a pavimento e l'eleganza delle rifiniture vi sorprenderanno. Prenota adesso una visita con i nostri agenti, telefonando allo 095 741 02 71. Fermata Spuligni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo! Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spuligni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menu. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla braccia. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spuligni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue a Cireale Fratres vi invita alla donazione. Sabato 5 agosto, presso la sede di Via Paolo Vasta 180 a Cireale. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. La festa di Santa Venera in diretta su Etne Espresso Channel. Come da tradizione, mercoledì 26 luglio, la nostra emittente porterà nelle case degli anziani, degli ammalati, di tutti coloro che non possono partecipare alla festa, le immagini dell'uscita di Santa Venera e di alcuni tratti del Giro d'Onore per il Centro Storico. La trasmissione avrà inizio alle 20.30. Insieme a tanti ospiti commenteremo in diretta la storia di Santa Venera. La festa di Santa Venera in diretta su Etne Espresso Channel, la tv degli accesi. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13.30 su Etne Espresso Channel, le ricette di Casa Espedito. Lo chef Claudio Trovato realizzerà per voi i più buoni piatti di Casa Espedito, il nuovo bistrò di Piazza Garibaldi a Cireale. Novità al comune di Cireale, il piano triennale delle assunzioni prevede l'acquisizione di 10 unità per l'anno in corso. Il comune di Cireale apre le porte alle assunzioni per coprire alcuni vuoti nella pianta organica al fine di assicurare una migliore funzionalità nella macchina burocratica dell'ente. La pianta organica attuale presenta dei vuoti, soprattutto riguarda alcune figure apicali. Programmati così accessi riservati anche al personale già in organico, mentre altri posti saranno riservati ad assunzioni dall'esterno. Precisando però come i ruoli individuati non saranno messi a concorso pubblico, ma attuando una procedura differente, in ogni caso prevista dalle normative vigenti. La Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per attuare così nel complesso l'assunzione di 10 unità per il 2017, considerato che nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziare sono stati inseriti finanziamenti per nuovo personale. Le assunzioni riportate come esterne prevedono in tal modo l'utilizzo delle graduatorie vigenti di pubblici concorsi approvate da altri enti pubblici prebio accordo con le stesse, al fine di ottenere un contenimento dei costi della spesa, nonché una riduzione dei carichi di lavoro e dei tempi per l'espletamento delle relative procedure di assunzione. A Dacci Catena il Sindaco Nello Oliveri accelera sul piano regolatore generale. Questa mattina il primo cittadino catenoto, unitamente al responsabile dell'ufficio urbanistica, l'architetto Mauro Sorbello, ha incontrato il responsabile della terna di professionisti incaricata di redigere il nuovo piano regolatore generale, l'ingegner Paolo Di Loreto. È stato fatto il punto sullo stato dell'arte del lavoro fin qui svolto per la realizzazione, per redigere l'importante strumento urbanistico. Il primo cittadino ha preso atto delle attività svolte fino ad oggi dai tre professionisti incaricati, ha dato dunque disposizione al capo settore, architetto Sorbello, di completare i pareri preventivi necessari, così da far approdare quanto prima possibile il nuovo strumento urbanistico in consiglio comunale, consiglio chiamato ad adottare il nuovo piano regolatore generale. Parliamo adesso di calcio. La Cireale costruisce la spina dorsale della Rosa e intanto lancia la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Fatti giovani, adesso serve costruire la spina dorsale. La Cireale continua a lavorare senza sosta per allestire la Rosa da mettere a disposizione di Gaetano Catalano per il prossimo campionato di Serie D. In attesa dell'ufficialità da parte della Lega per il ripescaggio nella quarta serie nazionale, ormai una pura formalità per i Granata, la società accese prosegue nell'opera di rafforzamento. E di stamattina infatti l'ennesima ufficialità, la numero 13, arriva in Granata il forte difensore centrale Alessandro Di Maio di origini palermitane, 30 anni ed una lunga esperienza in Serie D, testimoniata dai numeri. 106 presenze negli ultimi 4 anni, ultima stagione divisa tra Bustese in Lombardia e Lanusei in Sardegna, ma in carriera vanta anche 7 presenze nella Serie A Svizzera a Lugano. A lui Catalano affiderà la difesa, ma non è mica l'ultimo colpo del mercato Granata. Secondo indiscrezioni infatti sarebbero almeno tre giocatori già in pugno e per i quali mancherebbe soltanto l'ufficialità. Il primo è una riconferma, quella di Salvo Cocimano, apprezzato da mister Catalano e tra i più positivi nell'ultima stagione. Il secondo è un centrocampista di grande valenza in Serie D, il 26enne Marco Cuomo, che arriverebbe dal Pomigliano e che in passato ha già giocato con mister Catalano al Milazzo in C2, sei anni fa. Il terzo infine è un attaccante il cui curriculum stuzzica parecchio la fantasia. Si tratta del 31enne francese, ma di origini martinicane, Stephen Lessefer, ultima stagione al Camaro in promozione dove ha contribuito parecchio al salto di categoria, ma in passato nella Serie C inglese, la League Two con il Barnet e poi nella Serie Gallese con il Rill. Lessefer inoltre vanta anche cinque presenze con la sua nazionale del Martinica e la partecipazione alle qualificazioni per la CONCACAF Gold Cup, un attaccante fisico e potente che ha sempre fatto gol ovunque abbia giocato. Per il momento però il suo tesseramento rimane congelato, in attesa di capire dove andrà a finire Luciano Rabbeni, ufficializzato qualche giorno addietro dell'Avezzano, ma tentato di restare in Sicilia, e cosa deciderà di fare il grande pallino di società e tifosi, quel Peppe Savanarola che ha già firmato e si allena con il Taranto, ma che non disdegnerebbe di tornare a casa per avvicinarsi alla famiglia e soprattutto per tornare a vestire quelle granata che per lui è come una seconda pelle. Intanto, questo pomeriggio alle 17.30 al Palazzo di Città, la Ciliale presenterà la nuova campagna abbonamenti. Sarà presente la società al gran completo, dal presidente Rino Pulvirente all'amministratore delegato Daniele Notarrigo, dal DG Monterosso al presidente onorario Stracuzzi. Un'occasione questa anche per fare il punto sul mercato e annunciare ufficiosamente la tanto sognata Serie D, perché il futuro è nelle mani di chi crede nei propri sogni. Dal calcio alla scherma, protagonista ancora una volta ai mondiali, il fiorettista accese Daniele Garozzo, anche se lo stesso si dice deluso perché voleva l'oro e invece è arrivato solamente il bronze. Si è fermato a due passi dal grande traguardo. Il sogno di Daniele Garozzo, il fiorettista accese della nazionale di scherma che ai campionati del mondo in corso di svolgimento all'Ipsia in Germania, ha perso ieri in semifinale aggiudicandosi soltanto una medaglia di bronzo. Grande slam fallito dunque per poche stoccate dopo le Olimpiadi e gli europei. Infatti Garozzo non è riuscito a centrare il triplete nello stesso anno e si è dovuto accontentare di un bronzo che comunque va ad arricchire il suo palmarès in netta crescita negli ultimi 12 mesi. A battere il fiorettista campione olimpico ed europeo in carica è stato in semifinale il giapponese Toshia Saito, poi medaglia d'argento e già vice campione del mondo Under 20, a Plovdiv 2017. 15-12 il punteggio finale di una gara combattuta e che ha visto l'accese inseguire il rivale fin dalle prime stoccate. Una remuntata a metà, perché alla fine a Garozzo resta soltanto la consapevolezza di essersi ormai consacrato nel top del fioretto mondiale, ma la delusione è palpabile. Tra forse un paio d'anni riuscivo a metabolizzare questa sconfitta, però che dire, resta una bella gara sicuramente. Sarei bugiato a dire che non sono triste e deluso, però comunque resta un bel bronzo. Io sognavo di vincere nello stesso anno le Olimpiadi Europee e Mondiali. Ci ho messo tutta e sono fermato veramente da un millimetro. Eppure esaltante era stata la cavalcata di Garozzo fino alla semifinale. Il fiorettista di punta della nazionale italiana, infatti, aveva eliminato abbastanza agevolmente prima l'austriaco Reiketzer, 15-3, poi il giapponese Susumura, 15-8, ed ancora un altro giapponese, A, 15-6, ed infine, ai quarti, lo statunitense Inboden, in un esaltante assalto, vinto da Garozzo, 15-14. Se per l'Italia, dunque, si tratta della quinta medaglia nella spedizione azzurra, la terza di bronzo, per Daniele Garozzo è la conferma del proprio valore. È stato, infatti, l'unico del podio di Rio 2016 a confermarsi con una medaglia al collo, anche ai campionati del mondo. Nella spada femminile, infine, si è fermata agli ottavi la gara di Rossella-Fiamingo, eliminata dalla polacca Eva Nelip, poi medaglia d'argento. Oggi, intanto, sesta giornata di gare all'Ipsia, in pedana il fioretto femminile, la sciabola maschile a squadre. Domani, invece, di nuovo in pedana gli accesi Enrico Garozzo e Marco Fichiera per la spada maschile a squadre, mentre Daniele Garozzo tornerà a gareggiare mercoledì per il fioretto maschile a squadre. l'occasione giusta per un pronto riscatto. E adesso andiamo a chiudere con le previsioni meteo per la giornata di domani. Cielo sereno e soleggiato, con temperature e leggero calo, soprattutto la massima, che scende da 39 a 35 gradi, venti moderati, mare calmo. È tutto per oggi. Grazie, come sempre, per essere stati con noi. Appuntamento a domani con TG Reporter alle 13 e 40. Arrivederci. Grazie a tutti.